Un posto al sole, anticipazioni 20 aprile Riccardo svela una novità a Rossella Anticipazioni 20 aprile della soap di Raitre Chiara estremata da Ferri e Lara I colpi di scena sono all'ordine del giorno in un posto al sole, la soap opera più longeva della televisione italiana che mantiene il suo zoccolo duro di telespettatori nonostante vada in onda da più di 25 anni Accadrà nella puntata di oggi della soap? Chiara, dopo essere stata tradita da Lara che credeva a un'amica, chiede aiuto a Marina La donna decide di perorare la causa della petrone presso Roberto Ferri Intanto cresce la distanza tra Annunzio e Chiara Il ragazzo non ne può più delle sue continue bugie e teme che la sua ragazza possa ricadere nel tunnel della droga Giulia convince Angela a tentare un riavvicinamento con Franco prima di ripartire per la Sicilia Il matrimonio tra i due è giunto al capolinea? Intanto Raffaele, ancora in crisi con Ornella, inizia a porsi delle domande cosa prova per Elvira? Spoiler puntata di oggi di un posto al sole Riccardo comunica a Rossella una novità su Virginia Le anticipazioni del nuovo episodio della soap di Rai 3 rivelano che Chiara cercherà dentro di sé la forza per non soccombere davanti alle difficoltà La tentazione di drogarsi è ancora molto forte L'aiuto di Marina si rivelerà prezioso Riccardo, intanto, comunicherà a Rossella una novità importante riguardante il suo matrimonio con Virginia Il dottore ha deciso di porre fine al legame con la sua ex moglie? O dopo il bacio ha capito di provare ancora qualcosa per lei? Renato, dopo la sbornia, non ricorderà nulla di quello che è successo la sera precedente Ditta, invece, ricorderà tutto per filo e per segno e avrà le idee molto chiare sui suoi obiettivi Posto al sole e nuovi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate Le puntate di un posto al sole dal 18 al 22 aprile i colpi di scena si susseguiranno a Palazzo Palladini Sarà un duro scontro tra i fratelli Crovi Gimai tornerà da Berlino e Nico faticherà non poco a fargli rispettare le regole Nella proverà a ricucire con Raffaele ma un'emergenza in ospedale scombinerà i suoi piani Questo è tanto altro nelle nuove imperdibili puntate della SOP di Rai 3 Anticipazioni 20 aprile della SOP di Rai 3 Chiara estremata da Ferri e Lara I colpi di scena sono all'ordine del giorno in un posto al sole La SOP opera più longeva della televisione italiana che mantiene il suo zoccolo duro di telespettatori Nonostante vada in onda da più di 25 anni Cosa accadrà nella puntata di oggi della SOP? Chiara, dopo essere stata tradita dall'ara che credeva a un'amica, chiede aiuto a Marina La donna decide di perorare la causa della petrone presso Roberto Ferri Tanto cresce la distanza tra Annunzio e Chiara Il ragazzo non ne può più delle sue continue bugie e teme che la sua ragazza possa ricadere nel tunnel della droga Giulia convince Angela a tentare un riavvicinamento con Franco prima di ripartire per la Sicilia Il matrimonio tra i due è giunto al capolinea? Intanto Raffaele, ancora in crisi con Ornella, inizia a porsi delle domande cosa prova per Elvira La puntata di oggi di un posto al sole Riccardo comunica a Rossella una novità su Virginia Le anticipazioni del nuovo episodio della SOP di Rai 3 rivelano che Chiara cercherà dentro di sé la forza per non soccombere davanti alle difficoltà La tentazione di drogarsi è ancora molto forte L'aiuto di Marina si rivelerà prezioso Riccardo, intanto, comunicherà a Rossella una novità importante riguardante il suo matrimonio con Virginia Il dottore ha deciso di porre fine al legame con la sua ex moglie? O dopo il bacio ha capito di provare ancora qualcosa per lei? Renato, dopo la sbornia, non ricorderà nulla di quello che è successo la sera precedente Giuditta, invece, ricorderà tutto per filo e per segno e avrà le idee molto chiare sui suoi obiettivi Posto al sole nuovi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate Puntate di un posto al sole dal 18 al 22 aprile I colpi di scena si susseguiranno a Palazzo Palladini Ci sarà un duro scontro tra i fratelli Crovi Gimai tornerà da Berlino e Nico faticherà non poco a fargli rispettare le regole Ornella proverà a ricucire con Raffaele ma un'emergenza in ospedale scombinerà i suoi piani Questo è tanto altro nelle nuove imperdibili puntate della SOP di Rai 3 Participazioni 20 aprile della SOP di Rai 3 Chiara estremata da Ferri e Lara I suoi piani di scena sono all'ordine del giorno in un posto al sole, la SOP opera più longeva della televisione italiana che mantiene il suo zoccolo duro di telespettatori nonostante vada in onda da più di 25 anni Cosa accadrà nella puntata di oggi della SOP? Chiara, dopo essere stata tradita da Lara che credeva a un'amica, chiede aiuto a Marina La donna decide di perorare la causa della petrone presso Roberto Ferri Tanto cresce la distanza tra Annunzio e Chiara Il ragazzo non ne può più delle sue continue bugie e teme che la sua ragazza possa ricadere nel tunnel della droga Giulia convince Angela a tentare un riavvicinamento con Franco prima di ripartire per la Sicilia Il matrimonio tra i due è giunto al capolinea? Intanto Raffaele, ancora in crisi con Ornella, inizia a porsi delle domande cosa prova per Elvira? L'er puntata di oggi di un posto al sole Riccardo comunica a Rossella una novità su Virginia Le anticipazioni del nuovo episodio della SOP di Rai 3 rivelano che Chiara cercherà dentro di sé la forza per non soccombere davanti alle difficoltà La tentazione di drogarsi è ancora molto forte L'aiuto di Marina si rivelerà prezioso Riccardo, intanto, comunicherà a Rossella una novità importante riguardante il suo matrimonio con Virginia Il dottore ha deciso di porre fine al legame con la sua ex moglie? O dopo il bacio ha capito di provare ancora qualcosa per lei? Renato, dopo la sbornia, non ricorderà nulla di quello che è successo la sera precedente Giuditta, invece, ricorderà tutto per filo e per segno e avrà le idee molto chiare sui suoi obiettivi Un posto al sole e nuovi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate Nelle puntate di Un posto al sole dal 18 al 22 aprile i colpi di scena si susseguiranno a Palazzo Palladini Ci sarà un duro scontro tra i fratelli Crovi Jimmy tornerà da Berlino e Nico faticherà non poco a fargli rispettare le regole Nella proverà a ricucire con Raffaele ma un'emergenza in ospedale scombinerà i suoi piani Questo è tanto altro nelle nuove imperdibili puntate della SOP di Rai 3